E quindi amici non potevamo mancare all'appuntamento di questa sera al Cromie dove tra qualche minuto ma forse anche di più di qualche minuto Bob Sinclair il grande re della musica house francese che è un tutto dire in vertice alle classifiche della musica più ballata all'interno delle discoteche di tutto il mondo dicevamo Bob Sinclair sarà in quella console qui di fronte a noi naturalmente noi vi stiamo raccontando tutto il Cromie attraverso le nostre immagini non mancate di continuare a seguire questo appuntamento perché questa sera davvero è un grande avvenimento peccato per voi che non ci siete qui al Cromie in questa grandiosa arena ma noi per voi siamo venuti qui e ci siamo giudicati nella postazione centrale di questo grande evento e allora continuate a seguire le vicende di Studio Cento by Night perché a breve oltre alla bellissima gente del Cromie c'è Bob Sinclair qui nella console principale divertitevi con noi questa sera su Studio Cento by Night c'è Bob Sinclair qui inizia now my life steps again ditemi che siete pronti ditemi che siete cari ditemi che ce ne ho fatto perché abbiamo appena di schiume e non sono voi ma noi ce ne abbiamo fino al mattino fino al mattino Buongiorno! 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no